Quota 100 ormai è fatta ed è difficile per qualsiasi governo tornare indietro su un treno che è in corsa, ma evitiamo di ripetere in futuro misure del genere. Opportuno introdurre flessibilità nel sistema a partire dalle categorie più disagiate, come i lavoratori precoci e i disoccupati, senza lo spreco di risorse come fatto per misure bandiera fatte solo a scopi elettorali. Lo ha dichiarato l'ex ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti Elsa Fornero durante la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana. Fornero ha anche detto «Non vi preoccupate, non sarò ministro, ma se dovessi dire cosa farei su Quota 100, la risposta è che una volta che le cose sono fatte, devono rimanere».